A Londra ha riaperto al pubblico una mostra di acquarelli molto particolare. Le opere sono state dipinte infatti dal principe Carlo d'Inghilterra. 79 dipinti selezionati dal figlio della regina Elisabetta in esposizione fino a metà febbraio alla Garrison Chapel. Sotto i riflettori la visione di Carlo delle montagne scozzesi innevate, della campagna del Galles o della natura provenzale.